Grazie professore. Grazie a tutti. 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 ossidativo piuttosto che di un forte meccanismo di competizione delle molecole di gadolino libero con i recettori del calcio. Per cui meccanismi sicuramente complessi che agiscono a livello cellulare. Cerco di tentativo nei prossimi minuti e di farvi vedere quali sono gli approcci delle diverse società su quello che sono le linee guida, le indicazioni sull'utilizzo del mezzo di contrasto a base di gadolinio per quanto riguarda il danno che si può verificare a livello renale e non solo. Partiamo dalla società europea di radiologia urogenitale di cui abbiamo due esponenti di prestigio in sala di cui rinnovo ringraziamento e la prima cosa che ci dicono è che dobbiamo utilizzare la valutazione del filtrato glomerulare. Per anni abbiamo lavorato soprattutto nei reparti di radiologia basandoci soltanto sulla creatininemia, creatinina sierica o plasmatica, dobbiamo calcolare il filtrato glomerulare. Ormai abbiamo accesso ad internet in tutte le nostre postazioni, ci sono più siti in cui possiamo inserire i dati dei pazienti e avere accesso al filtrato glomerulare in maniera rapida se non ci viene fornito dai colleghi clinici. Per quanto riguarda il danno acuto, quindi il danno renale acuto da somministrazione di mezzi di contrasto a base di gadolinio, le linee guida europee ci dicono che il rischio è molto basso. Ci dicono inoltre un aspetto interessante che forse i più giovani non conoscono perché in realtà è stato, non è neanche passato come messaggio, è già stato trascurato perché siamo andati oltre. Ci dicono che non dobbiamo utilizzare mezzi di contrasto a base di gadolinio per esami con radiazioni ionizzanti. Quindi forse qualcuno si chiede ma perché dovremmo utilizzare gadolinio per esami con radiazioni ionizzanti? Perché il gadolinio è una molecola ad alto peso, un elevato peso, addirittura un numero atomico superiore a quello dello iodio. Però la questione è che la concentrazione di molecole di gadolinio nei mezzi di contrasto che noi utilizziamo è estremamente bassa. Quindi se noi vogliamo un'attenuazione delle radiazioni ionizzanti dobbiamo utilizzare una quantità estremamente elevata. Questa raccomandazione delle linee guida è arrivata perché negli anni, fine negli anni 80-90, alcuni colleghi hanno tentato di sperimentare il mezzo di contrasto a base di gadolinio, soprattutto in pazienti che non potevano ricevere mezzo di contrasto iodato, per vedere come potesse funzionare. Una delle nostre riviste più prestigiose, Radiology, nel 1998 ha presentato questo studio in cui non hanno soltanto messo delle soluzioni a base di gadolinio in TAC, ma hanno iniettato gadolinio nei due pazienti che hanno eseguito sia TAC che risonanza e poi li hanno scansionati. Uno è stato scansionato una sola volta per vedere la fase escretiva del mezzo di contrasto, addirittura un paziente in realtà ha subito più scansione di intervalli di tempo regolare, per cui a partire da pochi secondi dopo l'iniezione fino a 9-10 minuti, proprio per seguire l'escrezione lungo le vie urinarie. Sono usciti tutta una serie di lavori fino addirittura ai primi anni del 2000. Vedete qui un esempio preso dalla letteratura in cui quello che si vede e che quindi dà una radiopacità è gadolinio. Nel 2002, per fortuna, la Società Europea di Radiologia Eurogenitale ha deciso di pubblicare questo position paper in cui ha messo bene in chiaro come ci dobbiamo comportare. Il mezzo di contrasto a base di gadolinio non va utilizzato per esami con radiazioni ionizzanti, non possiamo utilizzarlo se abbiamo dei pazienti che soffrono di allergia a mezzo di contrasto iodato o che hanno crisi tereotossiche, non abbiamo comunque nessuna scusa per utilizzare gadolinio. In particolare perché dovremmo, per avere una radiopacità sufficiente alla TAC, dovremmo somministrare delle dosi che vanno oltre a quelle consentite per l'utilizzo del mezzo di contrasto a base di gadolinio. Questo gruppo di colleghi cinesi ha deciso di valutare, tornando quindi al danno renale acuto, qual è il rischio di induzione di danno renale acuto in pazienti che hanno un danno renale cronico. Hanno preso 158 pazienti e hanno riscontrato un'insorgenza di danno acuto su danno cronico nel 16%. Hanno cercato di valutare se ci fosse una correlazione con sesso, età o con i valori di filtrato glomerulare a livello basale, non è stata riscontrata nessuna correlazione e tantomeno con eventuali comorbidità. L'unico fattore che è risultato essere un fattore di rischio indipendente è stato la sepsi. Passando dal danno acuto, acuto isolato o acuto su cronico, a quello che invece è un danno più a lungo termine. Sappiamo tutti che la somministrazione nel mezzo di contrasto con gadolinio a lungo termine può dare la fibrosi nefrogenica sistemica. Si tratta di una patologia che insorge in tempi tardivi, di solito due o tre mesi dopo la somministrazione del mezzo di contrasto. I primi cambiamenti sono a livello cutaneo, più avanti vi mostrerò qualche immagine che tipo di danno induce nell'organismo e nelle fasi più tardive si può avere un danno d'organo anche estremamente severo. I fattori di rischio sono il fattore di rischio principale, la funzionalità renale, vedete che la società europea sottolinea un filtrato glomerulare addirittura inferiore a 15, il mezzo di contrasto principale ritenuto responsabile è il gadodiamide, sono stati però riscontrati casi anche con altri mezzi di contrasto comunque di tipo lineare. Il rischio aumenta con l'aumentare della dose, con l'aumentare delle somministrazioni. Quindi i mezzi di contrasto considerati ad elevato rischio, come potete vedere, sono quelli che nella presentazione precedente ho progressivamente cancellato dalle tabelle perché non sono più utilizzati, come l'Omniscan e il Magnivist. Abbiamo poi quello che è il gruppo considerato a rischio intermedio, quindi Multiens e Primovist. Infatti abbiamo visto che il Multiens ormai viene consigliato, raccomandato soltanto per l'utilizzo a livello epatico. Quindi non possiamo più utilizzarlo come mezzo di contrasto per lo studio vascolare, come abbiamo fatto per molti anni, ma soltanto in modo seriamente targettato. E queste sono raccomandazioni che provengono da più società assieme. i mezzi di contrasto a basso rischio sono quelli che hanno le molecole più stabili, quindi macrocicliche, in cui il rischio di liberazione del gadolinio libero è estremamente basso. Entreremo poi nel dettaglio di quello che è l'utilizzo nelle donne in gravidanza, nell'allattamento. Abbiamo già visto nella prima parte della mattinata che si può somministrare, ma ovviamente nessuno di noi in realtà lo farebbe mai. Per quanto riguarda i pazienti con diabete mellito, sappiamo che il mezzo di contrasto, io dato, soprattutto se i pazienti hanno una funzionalità renale compromessa, assumono la metformina, non dovremmo somministrarlo, comunque va sospesa la metformina, dobbiamo controllare la funzionalità renale perché vi è un rischio di acidulesi lattica. Per quanto riguarda i mezzi di contrasto a base di gadolinio, non vi sono particolari rischi. Per quanto concerne invece i pazienti che eseguono dialisi, il mezzo di contrasto viene eliminato dalla dialisi, però non c'è nessuna evidenza che prevenga dal danno renale o dallo sviluppo di fibrosi nefrogenica sistemica. Ci capita, raramente però può succedere, che ci chiedono di eseguire un esame con risonanza dopo che il paziente ha eseguito un esame con mezzo di contrasto io dato. Che tempistica dobbiamo applicare? Le linee guida ci dicono che nei pazienti con una funzionalità renale conservata il mezzo di contrasto viene eliminato entro 48 ore, almeno più del 75%, quindi dovremmo rispettare almeno questo intervallo. Se abbiamo un paziente che ha una funzionalità renale compromessa, dovremmo aspettare almeno sette giorni tra le due somministrazioni. Ovviamente dobbiamo fare attenzione però a quell'effetto che le linee guida ci hanno detto di non utilizzare a scopo diagnosico, quindi l'eventuale enhancement che potremmo avere alla TAC da somministrazione di gadolinio, per cui sarebbe meglio che l'esame con TAC precedesse quello con risonanza. Quanto tempo invece deve intercorrere tra due esami utilizzando mezzo di contrasto a base di gadolinio, in realtà si applica lo stesso intervallo temporale, quindi non abbiamo delle grosse differenze. Cosa ci dice la società canadese dei radiologi? Ho riportato quello della società canadese non per una particolare affezione nei confronti di questo paese, ma perché sono usciti con un lavoro recente nel 2018, così come le linee guida dell'ESUR e poi le ultime raccomandazioni dell'American College of Radiology che vi presenterò a breve. Sono appunto usciti anche loro con questo lavoro perché avevano delle evidenze che ci avevano dimostrato nelle loro raccomandazioni precedenti in cui ci cautelavano dall'utilizzo dei mezzi di contrasto nelle pazienti più a rischio e cercano di dirci che possiamo stare relativamente tranquilli se utilizziamo in mezzi di contrasto macrociclici. Si parla di classificazioni da gruppi G1 e G5, quindi G4 e G5 sono, giusto per chiarezza, i pazienti che hanno una funzionalità al di sotto dei 30 ml minuto per superficie corporea. Riportano una tabella riassuntiva dei casi di fibrosi nefrogenica sistemica in seguito all'utilizzo di Magnevis e di Omniscan, che come potete vedere sono quelli che sono associati con il più alto numero di casi, anche con il più alto numero di casi dubbi, perché pazienti che magari hanno avuto una sintomatologia subdola, non una diagnosi certa e definita, ma comunque rientrati all'interno di segnalazioni. A seguire, sottolineano la presenza di casi dubbi con Multi-ENS e con Pro-ENS. Classificano poi i pazienti in base alla funzionalità, quindi ci dicono come ci dobbiamo comportare. In realtà, nei pazienti con una funzionalità fino a 30 ml minuto per superficie corporea, possiamo comportarci in modo relativamente tranquillo. Quando la funzionalità renale inizia a diventare davvero compromessa, dobbiamo cercare delle alternative, quindi che sia la TAC, che sia l'epografia, dobbiamo capire se possiamo fermarci prima di somministrare mezzo di contrasto a base di gadolinio. Nel caso in cui non possiamo farlo, abbiamo il dovere, l'obbligo di informare il paziente che ha un rischio, secondo i canadesi, di circa l'1%, vedremo che la società americana in realtà parla di un intervallo di 1-7% di rischio di fibrosi nefrogenica sistemica. Pazienti in dialisi, dobbiamo fare in modo, dovremmo fare in modo che il paziente esegua la dialisi e la esegua all'interno delle 2-3 ore successive all'esecuzione dell'esame, quindi alla somministrazione di mezzo di contrasto. Per quanto riguarda i pazienti con danno renale acuto, ci dovremmo comportare come nei pazienti che hanno una funzionalità renale altamente compromessa e quindi dovremmo cercare di evitare di dare mezzo di contrasto e eventualmente considerare di farlo quando la funzionalità renale è migliorata nel caso in cui ovviamente l'esame non sia salvavita e quindi ci sia il criterio di urgenza. Arriviamo quindi agli Stati Uniti, dove si parla di ovviamente quello che è la patologia cronica e in particolare sottolineano che i soggetti con una funzionalità renale estremamente compromessa, quindi al di sotto dei 15 ml per minuto, hanno un rischio che va dall'1 al 7% di sviluppare fibrosi nefrogenica sistemica anche solo dopo una singola esposizione a mezzo di contrasto. In ogni caso, appunto, sottolineano questa estrema compromissione della funzionalità renale perché proprio questi pazienti che sono particolarmente compromessi sono quelli più a rischio di sviluppo della patologia. Per quanto riguarda il danno acuto, invece ci dicono che c'è un rischio del 12-20% di sviluppare fibrosi nefrogenica sistemica in pazienti con un danno renale acuto che però si è sovrapposto ad un danno renale cronico. Quindi richiamano in parte quelle percentuali che abbiamo visto dello studio del gruppo cinese che diceva il 16% della loro popolazione. Il danno renale acuto non è comunque un fattore di rischio da solo, di per sé isolato, di fibrosi nefrogenica sistemica. Ovviamente dobbiamo fare attenzione quando somministriamo più dosi di mezzo di contrasto ai pazienti, soprattutto se hanno una funzionalità renale compromessa e dobbiamo considerare tutta una serie di cofattori che possono intervenire. Purtroppo sono estremamente generici perché è evidente nella comunità scientifica che ci sia ancora bisogno di capire, come diceva anche il professor Ronco stamattina, non è il rene da solo, non è la singola funzionalità renale che ci può dire qualcosa, ma i nostri pazienti hanno molto spesso delle comorbidità e ognuno di noi poi ha una sua modalità di reazione anche al mezzo di contrasto. Quindi vengono citate ad esempio elevati livelli di calcio, di ferro, come possibili elementi che possano addirittura rappresentare quasi un fattore di rischio. Mi sono permessa di citare anche questo aspetto sottolineato dall'American College of Radiology delle pazienti con insufficienza epatica o con sindrome epato-renale perché c'è molta letteratura intorno al 2000 che dice che non dovremmo utilizzare mezzi di contrasto a base di gadolinio nei pazienti con insufficienza epatica. In realtà l'American College of Radiology sottolinea che non c'è più bisogno di considerare questo fattore perché probabilmente è stato malinterpretato, nel senso erano pazienti che avevano una compromissione generale e in particolare una compromissione renale, ma non era l'insufficienza epatica di per sé a rappresentare un fattore di rischio per lo sviluppo di fibrosi nefrogenica sistemica. Anche la società americana quindi classifica i diversi mezzi di contrasto, ci dice nuovamente che non dobbiamo utilizzare Omniscan e Magnevis, che dobbiamo comportarci in modo cauto con Multiens e anche con Dottram perché sono stati riportati casi dubbi e possiamo, in realtà c'è una casistica dubbia legata anche al Primovist e all'Eovist, però non casistica certa. Abbiamo parlato di fibrosi nefrogenica sistemica, allora questi sono alcuni effetti che possiamo vedere nei pazienti, è ovviamente una condizione rara, stiamo parlando di percentuali molto basse, ma ovviamente per l'effetto invalidante che può avere non si può trascurare, di solito la malattia inizia con queste lesioni a livello cutaneo, soprattutto degli arti inferiori, la questione è che la malattia evolve, la malattia evolve coinvolgendo gli organi interni e addirittura in un 5% dei casi può avere un decorso fulminante. La prima associazione tra gadolinio e fibrosi nefrogenica sistemica risale al 2006, quindi in realtà è una letteratura recente e solo a seguire è stata dimostrata in modo certo tramite campionamento bioptico. Si parla di un picco di incidenza di 50-60 anni dei pazienti, ma in realtà forse dovremmo considerare che si tratta di dati riportati in un lavoro del 2009-2010, quindi forse dovremmo valutare nel tempo questa fascia d'età, anche perché non è stata dimostrata una vera e propria associazione con fattori di rischio ben definiti ancora. Il colpisce appunto inizialmente derma e delle estremità, poi si estende al tronco. Ci sono alcuni case report e case series di coinvolgimento del sistema polmonare, quindi con induzione di fibrosi polmonare e di effetti fibrosanti anche a livello miocardico. Già nel 2012 sono usciti numerosi lavori in cui si cercava di capire qual è il meccanismo esatto. Questa review ha cercato di mettere insieme tutta una serie di informazioni provenienti da un'ampia letteratura, senza entrare nel dettaglio del meccanismo cellulare, comunque l'attivazione dei fibroblasti in maniera incontrollata, probabilmente anche per dei processi di trasmetilazione e quindi anche di competizione con recettori del calcio che vi ho mostrato all'inizio in quel lavoro del 2016, sembrano innescare questa cascata fibrosante. Possiamo vedere gli effetti della fibrosi nefrogenica sistemica anche dal punto di vista radiologico, per cui in risonanza questo espessimento delle sottocute si vede in questo paziente anche un aspetto edematoso addirittura intact e in quest'ultimo paziente in basso vedete come queste placche sottocutane, questo effetto fibrosante dei tessuti molli si è evidenziato anche con una presa di contrasto. Non abbiamo una terapia efficace ad oggi, sembra che il miglioramento della funzionalità renale possa rallentare o arrestare la progressione della malattia, ciò che dal punto di vista pratico può anche essere effettuato, rimantenere in movimento, quindi con esercizio attivo e passivo, le articolazioni dei pazienti in modo che possano continuare almeno a muoversi. È uscito recentemente questo lavoro che parla di placche cutanee. Gli autori presentano due casi, quindi neanche una case serial, sono semplicemente due pazienti. Quello che si domanda è se si tratti di una variante o di una forma precoce di fibrosi nefrogenica sistemica, per cui si ha questi danni cutanee con delle placche che sono simili, però più contenute rispetto a pazienti con un vero e proprio quadro di fibrosi nefrogenica sistemica. In un caso è stata associata a somministrazione singola, in altre associazioni a somministrazione multiple. In mezzo di contrasto a base di gadolinio non induce soltanto danno a livello renale, appunto si comporta con un danno anche a livello sistemico, come abbiamo visto con la fibrosi nefrogenica sistemica, ma quello che è emerso negli ultimi anni e che ha scatenato un vero e proprio panico nella comunità scientifica è stato il riscontro di depositi di gadolinio a livello cerebrale. Quindi ci siamo mossi da quello che era semplicemente il compartimento renale, che sappiamo essere un organo, quindi una struttura estremamente sensibile alle molecole che noi iniettiamo e abbiamo scoperto che in realtà il gadolinio forse non va o non ha come vittima soltanto il rene, ma forse altri organi all'interno del corpo. Nel 2004 è uscito questo lavoro su radiologi, hanno riscontrato depositi di gadolinio nel nucleo dentato, nel globo pallido e da lì in poi la ricerca si è mossa, per cui come potete vedere ho fatto questa ricerca su PubMed un paio di giorni fa, ci sono circa 200 lavori pubblicati negli ultimi anni, quindi se considerate il primo dato del 2014, in cinque anni la letteratura si è mossa rapidamente. Ciò che è evidente è che le molecole lineari, quindi quelle che abbiamo accusato fin dall'inizio della mattinata e abbiamo escluso dalla nostra pratica, sono legate a un deposito di gadolinio a livello encefalico. La società americana di radiologia, esattamente un anno fa, quindi ad aprile del 2018, è uscita con uno statement molto forte. Ha detto che c'è un deposito, appunto il gadolinio, le molecole lineari sono associate a deposito a livello cerebrale e il riscontro di depositi non è legato a una ridotta funzionalità renale, quindi non abbiamo una categoria di pazienti a rischio, ma tutti i pazienti possono diventare vittime di questi depositi. Non abbiamo evidenze al momento di un danno cerebrale, nel senso che noi sappiamo che c'è il deposito, ma non sembra indurre malattia, almeno ad oggi, per quello che siamo riusciti a scoprire e a valutare fino ad oggi. Il deposito di gadolinio è però associato alla dose somministrata e al tipo di mezzo di contrasto somministrato. Ci sono studi su animali, in particolare su topo, che dimostrano depositi di gadolinio anche a livello di cute, osso e fegato. Ovviamente nell'osso il deposito persiste a lungo. Quello che ancora non è completamente chiaro è se si tratti soltanto di depositi di gadolinio libero o anche di molecole chelate. Già nel 2016 è uscito un lavoro che si domanda se in realtà il deposito di gadolinio sia soltanto a livello cerebrale o se ci dobbiamo preoccupare di altri organi anche nei pazienti. E' stata somministrata questa survey a un gruppo di 40 pazienti che erano stati trattati con mezzo di contrasto a base di gadolinio chiedendo se avessero sintomi. Dovevano essere insorti entro un anno dal momento della somministrazione e molti pazienti hanno dimostrato la presenza di sintomi di dolore persistente, non solo nella sede di iniezione ma anche a livello degli arti, arterie diffuse, piuttosto che mal di testa o sintomi aspecifici. La presenza di dolore, di fastidio, di disturbi è associata soprattutto ai mezzi di contrasto che oggi abbiamo eliminato dalla pratica e soprattutto con somministrazioni multiple. Questo per dire che probabilmente dobbiamo preoccuparci dei depositi di gadolinio e almeno dedicare la parte della nostra ricerca scientifica a capire dove va a depositarsi il gadolinio oltre a quello che abbiamo già scoperto, quindi all'encefalo, e se riusciamo soprattutto ad identificare dei soggetti che sono a maggior rischio. Quindi per concludere, abbiamo capito che mezzo di contrasto a base di gadolinio ha un basso rischio di danno renale acuto, soprattutto se ci comportiamo in maniera adeguata, quindi se somministriamo la dose giusta e il mezzo di contrasto adeguato. Dobbiamo fare molta attenzione nei pazienti che hanno una funzionalità renale compromessa. Dobbiamo conoscere la stratificazione del rischio, quindi sapere come comportarci. Per adesso sappiamo che i depositi a livello cerebrale non sono legati a una compromissione e la funzionalità renale, non sono legati a una patologia specifica, quindi non sembrano in dura una patologia specifica, ma comunque siamo ancora in una fase di estrema cautela, di sicuro abbiamo bisogno di ampliare le nostre competenze, le nostre conoscenze in questo ambito. Con questo vi ringrazio. Grazie.